Oggi ho dovuto, oggi ho dovuto e anche io un po' aspettato di mettere il video in onda. Nel frattempo, in questa attesa, ho ascoltato i pareri di altri youtubers, specialmente milanisti, ne ho ascoltati due o tre o quattro così, in giro, per vedere un po' che aria ti tirava. Mi sono stupito di sentire lo stupore nelle parole di alcuni. Non rassegnazione, non consapevolezza, è giusto lo stupore. Erano tutti convinti, anzi erano molti convinti, che la sola venuta di Ibrahimovi ci avrebbe reso il Milan una squadra migliore, il Milan una società migliore. Non funziona così. Funziona così nei nostri sogni di tifosi. Se sei un tifoso funziona così, come elaboriamo noi la squadra. Però dopo la squadra è una, la realtà è un'altra. Una squadra va costruita mattone per mattone, pezzo per pezzo, persona per persona. Ho fatto ieri una, ho parlato dei cinque elementi con cui una squadra vince. Se andate a leggere qualsiasi libro di sport, di squadra, specialmente del calcio, di storia del calcio, andate a vedere che si parla sempre di questi cinque elementi. E in tutti e cinque elementi il Milan in questo momento soffre. Specialmente, specialmente nel terzo, e ci arrivo subito. Il primo elemento è la proprietà. Il Milan sta soffrendo il fatto di non avere una proprietà. Non si capisce nulla, assolutamente. È un bene esclusso, è un bene impegno, è un bene di nessuno, è un bene in cassaforte, è un bene chiuso. È un peccato. È un peccato, l'ho sempre detto da quando ho iniziato a mettere video su YouTube. È un peccato anche per me da interista vedere il nome del Milan e dell'azienda italiana del Milan in queste situazioni. Mi dà fastidio, mi dà veramente fastidio. Ma così è. Così è al momento, fin quando non vende a Ornò o a qualcun altro. In quel momento allora la storia del Milan cambia di nuovo. In questo momento è nella ragnatela di quella situazione. Non può fare niente. Questo è il primo elemento in cui il Milan è effettivamente debole. Apro una piccolissima parentesi. Se io da interista oggi mi guardo il Napoli-Inter, tifando l'Inter, volendo l'Inter che vince lo Scudetto, è semplicemente perché questo primo elemento siamo stati fortunati. In dieci anni l'Inter non ha vinto nulla, solo una cosa ha vinto, per così dire, che è stata venduta bene da Toir. Da Toir è stata venduta bene la famiglia Zhang, ricca, che mette soldi e che ha un progetto. Questa è stata l'unica fortuna. Quindi per dirvi quanto importante è questo elemento. Questo elemento il Milan in questo momento non ce l'ha, ahimè. Secondo elemento per fare buono una squadra è la dirigenza. La dirigenza significa tutte le persone intermedie, tutte quelle persone che lavorano alla contabilità, alla gestione, all'organizzazione della squadra. Il Milan è abbastanza debole in questo punto, ma nelle persone apicali, specialmente per esempio in Gazzini, se nessuno sa cosa sta facendo e nessuno sa cosa veramente ha portato sul tavolo. È, secondo me, sul banco degli imputati sportivi, ovviamente. Però è una di quelle persone a cui si può effettivamente criticare tanto, perché nulla ha dato. Quindi se nulla dai io ti critico tanto. Si è parlato molto di Boba Nemaldini, però alla fine, Boba Nemaldini, io l'ho detto tantissime volte, qualche coniglietto dal cilindro l'hanno portato. Teo Hernandez, Leao, così e così. Leao è stato un errore loro. Troppo giovane. Pensare anche a scommettere tanti soldi su un giocatore di 19 anni, secondo me, è stato un errore. Però l'hanno portato. Benasser, qualche giocatorino l'hanno portato. Non sono i migliori della piazza. Non sono neanche i peggiori. C'è solo un punto, sono però quelli più pagati. Questo è un punto. Comunque sia, il Milan in questa fase è debole, ma non così come è debole nel primo elemento. Dopo c'è il terzo elemento. Il terzo elemento è l'allenatore. Il terzo elemento è l'allenatore. A me dispiace, però il Pio Pioli... Signori, io l'ho critico, l'ho sempre criticato, anche quando era all'Inter, perché alla fine Pioli ha avuto la Fiorentina, ha avuto la Lazio, ha avuto l'Inter, ha avuto il Milan, cioè ha avuto tantissime possibilità. E sul tavolo di suo, di suo, non ha portato niente. Gattuso, di suo, aveva portato una squadra al quinto posto. Di suo, Gattuso aveva portato una squadra al quinto posto. Si parla di Conte che Conte ti dà i 14, 16, 18 punti in più, ma Gattuso aveva dato i suoi 8, 9, 10 punti in più. Eppure non è stato riconosciuto, profeta in patria, Nemo, profeta in patria, significa nessuno è profeta in patria. E così è stato anche per Gattuso, non è stato riconosciuto. Questo non vuol dire che Gattuso farà bene al Napoli, e spero che stasera non faccia bene al Napoli, ovviamente dico, però questo non vuol dire che farà bene al Napoli, ma in questo Milan Gattuso era perfetto, e non è stato riconosciuto. Bene, bene. Adesso c'è Pioli. Pioli sta facendo peggio di Giampaolo. Forse, ed è quasi una... Bisogna avere anche il pudore, bisogna saltare, appiepare il pudore e dirsi alcune cose. E forse Giampaolo era meglio di Pioli. A un certo punto bisogna anche sapere dire che forse Giampaolo era meglio di Pioli, che forse Giampaolo l'aveva vinta la partita a Genova, che forse Giampaolo i 6 punti li aveva portati, o 9 punti li aveva portati a calciapugne con il suo modo di fare. Pioli, alla fine, cioè sei un subentrato, non è che hai dato chissà che. Non è che hai dato chissà che. Cioè, siamo sempre lì, metti fotocopia 433, lo faceva l'Inter, lo faceva la Fiorentina, lo faceva la Lazio, lo facevi... Cioè, basta. Basta. Questo è, secondo me, un altro problema del Milan. Che che se ne dica? Perché Pioli fa sempre quell'aria lì, e ma che posso fare io di più? Dopo, quando si spengono le telecamere, ti conti i soldi che ti porti nello stipendio, sono centinaia di migliaia di euro. Cioè, quando prendi così tanti soldi, uno si aspetta che tu porti qualcosa. Non che ti dici, vabbè, ma cosa posso fare di più? O gestisci la situazione. Questo è il terzo elemento, che è Pioli. Quarto elemento è la squadra. La squadra, ragazzi, molti giornalisti ve l'hanno raccontata, e molti tifosi se la sono raccontata. Però, il tifoso è il tifoso. Ripeto sempre, il tifoso è quello che paga. Il quinto elemento è il tifoso e ci arrivo. Però, la squadra è quella che è. Alcuni, alcuni youtuber, l'anno scorso, dicevano, Lautaro è Cutrone, Lautaro, Cutrone vale più di Lautaro. Con tutto il rispetto per quello che può essere il tifo. Dopo ci sono cose oggettive da vedere. Lautaro è meglio di Dybala, perché l'Argentina è lui all'attacco in Argentina. Cioè, bisogna vederle le cose. Ronaldo è più forte di Lukaku. Il centrocampo della Juve ha molto di più del centrocampo dell'Inter. Io lo capisco. I giocatori della Juve sono più forti di quelli dell'Inter. Non mi vergogna dirlo. Dopo c'è un allenatore che ci può dare qualcosa in più, eccetera, eccetera. Ma vedere e capire quali sono i tuoi giocatori è importante. Non è che a me piace ricordare nell'Inter Schelotto, Guglielmo, Impietro, che giocatori erano, Jonathan? Che giocatori erano? Eppure ci sono giornalisti, specialmente uno, ma ce n'è specialmente uno, che tutti i giocatori del Milan e se quando sono al Milan ne sembrano tutti fenomeni e se ne parli male o se quantomeno le critichi, sembra che tu voglia criticare l'intera storia del Milan. Nessuno vuole criticare l'intera storia del Milan. Però, Suso, è questo qua. Cioè, dopo anni, che ti aspetti? Che si svegli una mattina e ti giochi benissimo perché è arrivato Ibrahimovic. Non è così. Mi dispiace quasi, però questi sono i cinque elementi. Se il tifoso del Milan in cui, e qua arriviamo al quinto elemento, l'unico elemento che davvero si salva, ma non è ruffianeria, non sto lisciando il pelo a nessuno che non me ne frega niente di lisciare il pelo a qualcuno, ma l'unico, l'unico davvero vittima di questa situazione è il quinto elemento che è i tifosi. Sono i tifosi. Perché quando arrivi 60.000 allo stadio vuol dire che tu hai voglia di vedere giocare il tuo Milan. Quante volte al Milan li hanno applauditi comunque? Quante volte i tifosi si sono illusi sulle A o si sono illusi su quello? Basta! Sono stati trattati male i tifosi del Milan. I tifosi del Milan sono stati trattati male. Anche quelli dell'Inter erano stati trattati male. Però, sapete, Moratti alla fine era uscito perché di soldi non ne aveva più. Non poteva reggere più. L'ha venduta a Toir e Toir a modo suo ha tenuto la barca così a galla in un certo senso e l'ha venduta bene. Però, e ne abbiamo sofferto, perché guardate che l'Inter con Toir sarebbe a 22-23 punti. Cioè, per essere chiari, sarebbe a pareggiate... Che è stato così negli ultimi 10 anni? Ne ha pari punti col Milan. Per dire, il primo elemento, che è quello della proprietà, è importantissimo. I tifosi stanno subendo questa situazione, però, una cosa è essere in mano a Toir, che già era tutto dire. Una cosa è essere in mano a Yongoli, che nessuno lo conosceva, nessuno lo conosce, non si sa dove. Una cosa è essere un benescusso nella cassaforte a Londra, quattro carte messe dentro, chiuse. Questi tifosi, tifosi, non ho nulla da dire. ci sono alcuni youtubers che adesso incominciano a criticarsi fra di loro, ma Ibrahimovic lo aspettavi troppo, ma io li capisco pure, vuoi un po' più pure divertirti, il calcio è sogno, il calcio è divertimento, il calcio giusto, quello buono, e ti deve anche fare divertire. Compri il giocatore paletta e ti vuoi immaginare che paletta sia il giocatore più forte del mondo e così. Quindi, i tifosi fanno fatti il loro e fanno il loro. Gli altri, tutti gli altri quattro elementi, beh, quelli che dovresti andare a vedere. Forse ancora più della squadra, sono i primi due, i primi tre elementi. Ma al momento la debolezza totale del Milan, secondo me, è ovviamente il primo, che è l'elemento principale, la proprietà, e si va al terzo posto, che è l'allenatore. Vedrete, 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 che piano piano questo argomento uscirà fuori anche con una certa vehemenza a un certo punto. Vedrete. È successo a Firenze, è successo a Roma con la Lazio, è successo, non è successo a Milano con l'Inter, ma io mi ricordo il Pioli che vince sette partite e dopo boom! E siccome questo boom c'è sempre in ogni squadra, qualcosa non va, qualcosa non va. Richiamare Giampaolo? Chi lo sa? Ragazzi, stasera invece, stasera invece Napoli-Inter, boh, io spero di vincere, dai, vediamo dopo. E su questo piccola cosa la Juventus ha vinto di giustezza 4-0 e questa cosa mi preoccupa. Ciao, a dopo, ci vediamo dopo, ciao! Ciao!